Alcamo si chiude il cerchio sulla rapina al credito siciliano, tre arresti. Amazzara arresti per violenza e detenzione di stupefacenti. Amazzara arriva alla prima votazione in consiglio comunale con l'ausilio della tecnologia. Calcio, debutto fra le mura amiche per il Mazzara Calcio. Sabato e domenica l'auditorium Mario Caruso di Mazzara Workshop di Ashtanga, Vinyasa e Ata Yoga. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG8 Informazione. Apriamo con la cronaca. Nelle prime ore della mattina di oggi i militari di Alcamo hanno rintracciato e tratto in arresto nel capoluogo siciliano il 21enne Giuseppe Caccamo e il 20enne Salvatore Caracappa, entrambi palermitani con precedenti di polizia in quanto accusati di avere preso parte alla rapina commessa il 14 aprile scorso presso la filiale del credito siciliano di Alcamo. Le indagini hanno consentito di individuare a margine della vicenda delittuosa anche un quarto soggetto, il 50enne Rosario Stemma, padre di Giuseppe, il quale è stato denunciato poiché qualche giorno dopo la rapina commessa ad Alcamo ha dichiarato falsamente, mediante la presentazione di una denuncia contro i gnoti, che la propria auto gli fosse stata rubata. La stessa auto di cui Stemma aveva denunciato il furto ma in realtà era stata prestata consapevolmente dallo stesso al figlio e i suoi complici che poi si erano serviti per commettere la rapina ad Alcamo. Lo stesso mezzo, fra l'altro, si trovava già sotto sequestro amministrativo per altre cause. Probabilmente ormai sicuri di averla fatta franca, i due giovani sfuggiti alla cattura in flagranza erano rimasti liberi di gironzolare fino ad oggi quando ormai schiaritesi le acque ed essendo evidenti gravi indizi di colpevolezza al loro carico per la rapina dell'aprile 2018 sono inesorabilmente rimasti impigliati nelle fitte maglie della rete investigativa intessuta dai militari della compagnia Carabinieri di Alcamo. Il personale della squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara del Vallo ha conseguito un ulteriore e importante risultato operativo nella repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Sentiamo. Nel pomeriggio di ieri il personale della squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara del Vallo, diretto da Damiano Lupo, ha conseguito un ulteriore e importante risultato operativo nella repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Già da giorni il personale stava monitorando un'abitazione all'interno della quale si riteneva avvenisse un'attività di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al fine di dare riscontro all'ipotesi investigativa è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo e ha permesso di rinvenire all'interno dell'abitazione di IGL, cittadino mazzarese incensurato di 34 anni, tre piante di cannabis indica con fusto alto un metro circa e 400 grammi di marijuana in parte già confezionato in modo da essere pronti per il successivo spaccio. Questo è stato tutto posto sotto sequestro unitamente a due bilancini di precisione a tutto l'occorrente per la consumazione delle piante. Conseguentemente IGL è stato arrestato in quanto ritenuto nella flagranza dei reati di coltivazione di cannabis indica e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria come disposto dal PM di turno, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell'arresto. L'autorità giudiziaria condividendo le conclusioni investigative nella mattinata di oggi ha convalidato l'arresto sottoponendo il soggetto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'odierno arresto si inserisce in un complesso e articolato filone operativo già intrapreso da alcune settimane dagli agenti del commissariato di PS volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe a Mazzara del Vallo. Giuseppe Alex Favara, ventenne castelvetranese, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di una lite in famiglia insieme a un reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sentiamo. Nella mattinata di ieri i carabinieri del dipendente del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto Giuseppe Alex Favara, ventenne castelvetranese, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. È raggiunta segnalazione da parte della locale centrale operativa di un intervento urgente per una lite in famiglia. i militari dell'arma sono precipitati sul posto trovando il predetto con in mano una mannaia di 30 centimetri che minacciava la madre e il fratello per motivi accertati subito dopo aver disarmato il ragazzo e messo in sicurezza i familiari, motivi che si sono rivelati particolarmente futili. I carabinieri hanno sottoposto il Favara a perquisizione personale e locale, rimanendo all'interno dell'appaltamento, ben occultati, 415 grammi di sostanza stupefacente del tipo marihuana, materiale per il confezionamento e la lavorazione dello stupefacente, che è stato tuttoposto sotto sequestro unitamente alla mannaia. Data la palese flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, considerato anche che la quantità di stupefacente detenuta palesano che non potesse trattarsi di uso personale, che comunque era ben oltre le soglie consentite dalla legge, il Favara è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per minaccia acclavata. L'arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza della compagnia di carabinieri Castelvetrano in attesa di direttissima. Anche in questo caso il tempestivo intervento della pattuglia impiegato dal territorio ha scongiurato quello che poteva diventare l'ennesima tragedia familiare. Un incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Intorno all'1.30 un giovane alla guida di una Ford Fusion ha perso il controllo del proprio mezzo sbattendo violentemente al guardrail. L'uomo stava procedendo in direzione Castelvetrano e l'incidente è avvenuto a circa 3 km dal paese in un tratto di strada dove l'illuminazione è pressoché assente. Alla guida del mezzo un giovane di Castelvetrano che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Danni ingenti invece per l'auto. La giunta municipale di Mazzara del Vallo ha approvato la convenzione tra il Comune e l'Istituto Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso di Mazzara del Vallo per la realizzazione di un centro diurno per minori. La convenzione è stata sottoscritta tra il dirigente del primo settore comunale la dottoressa Maria Gabriella Marascia e il rappresentante legale dell'Istituto Boccone del Povero padre Giuseppe Fullone. La nuova convenzione prevede l'accoglienza di un massimo di 34 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il centro rimarrà aperto dalle 13 alle 18, da lunedì al sabato con apertura solo mattutina e fino alle ore 14 con pranzo incluso nel periodo estivo ad eccezione di 15 giorni del mese di agosto insieme a tante altre attività extrascolastiche. I minori che potranno usufruire del servizio dovranno essere segnalati e autorizzati dal servizio sociale del Comune. Il responsabile del cimitero comunale di Mazzara l'ingegnere Pietro Calandrino rende noto che per motivi tecnico-organizzativi fino a sabato 15 settembre il cimitero comunale chiuderà le ore 14 e pertanto non sarà garantita l'apertura pomeridiana. Eventuali urgenze, si legge nell'avviso dei servizi cimiteriali saranno in ogni caso garantite dal personale reperibile. Per la prima volta nella storia il Consiglio Comunale di Mazzara ha effettuato la votazione con l'ausilio della tecnologia nella seduta che ha visto l'approvazione di otto debiti fuori bilancio e le dimissioni rassegnate dal consigliere Antonino Arena. Sentiamo i servizi. Per la prima volta nella storia il nostro Consiglio Comunale ha adottato il sistema del voto elettronico. avevano già testato le nuove tecnologie che ci consentono la registrazione e la trasmissione streaming delle sedute di consiglio ma anche grazie al supporto dell'Ufficio Comunale Innovazione che oggi ci ha assistito con gli operatori Pomili e Casuccio abbiamo attuato il sistema del voto elettronico un sistema che deve ancora essere meglio recepito dai consiglieri ma sicuramente un passo avanti verso la modernizzazione. Dichiararlo il Presidente del Consiglio Comunale, Vito Cangitano che ha espresso soddisfazione per l'attuazione per la prima volta del voto elettronico in aula. Cangitano ha espresso soddisfazione anche per il proficuo lavoro realizzato dal Consiglio che nella seduta di ieri ha esitato i più importanti punti inseriti nell'ordine del giorno dei lavori tra i quali l'approvazione del nuovo regolamento sull'affidamento familiare dei minori che oltre ad adeguarsi alla normativa vigente prevede anche la possibilità dell'affido familiare dei minori stranieri non accompagnati con possibilità di utilizzare i fondi destinati al Ministero dell'Interno al progetto sperimentale SPRAR che è uno dei progetti in ambito nazionale per l'accoglienza di 12 minori stranieri non accompagnati. Oltre al nuovo regolamento è stata approvata anche una modifica tecnica al regolamento di polizia urbana e sono state approvate 8 debiti fuori bilancio. Nel corso della seduta poi il Consigliere Comunale Antonino Arena ha dichiarato che oggi sarebbe stata la sua ultima seduta della Consigliatura annunciando le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere Comunale per lasciare spazio nell'ambito di un ricambio all'interno dello stesso schieramento politico al primo eneletti nella lista mazzata nel cuore Michele Reina. Arena ha ringraziato tutti i consiglieri e l'amministrazione per la collaborazione a prescindere dall'appartenenza politica. Il CUP del Vittorio Emanuele II di Castelvetrano più che una nota dolente per gli utenti da parecchi mesi è un vero e proprio calvario. Sentiamo. Il centro unico per le prenotazioni, il cosiddetto CUP dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano più che una nota dolente per gli utenti da parecchi mesi è un calvario. Ce ne siamo già occupati diverse volte e abbiamo atteso anche le varie rassicurazioni da parte del commissario sordinario dell'ASP che ha garantito un intervento ma il servizio rimane ancora una volta parecchio oggetto di criticità. A segnalarlo ancora una volta è la responsabile del Tribunale di diritto del malato di Castelvetrano, Serena Navetta che ha parlato di criticità e carenze di personali da programmi, software da aggiornare, guasti. Insomma, accedere alle prestazioni sanitarie per i pazienti non è stato per nulla facile, finora in queste settimane poi è spuntata un'altra criticità. I biglietti erogati si fermano al numero 40 questo è il numero che il CUP riesce con certezza a prenotare nelle giornate lavorative. Naturalmente i pazienti arrivano all'ospedale per prendere il numero già all'alba alle ore 8 di ogni giorno il totem non rilascia più numeri di prenotazione. I vertici dell'ASP ancora una volta tranquillizzano perché la situazione è temporanea che presso il CUP sarà trasferito nei nuovi locali accanto al bar e che presso tutto sarà risolto. Presto sarà probabilmente la fine di ottobre quando dovrebbe essere anche attivo il servizio di prenotazione online. Ma intanto tempi duri perché ha necessità. I pazienti sono stati davvero molto pazienti nell'ultimo anno hanno tollerato i tempi e le difficoltà ma la sanità forse continua a non capire le esigenze dei pazienti non capire che dietro quel numero impossibilitato di accedere alla prenotazione c'è una patologia che probabilmente non attende i tempi della sanità. Il Tribunale per i diritti del malato auspica in una stretta e concreta risolutiva da parte dell'ASP sulle difficoltà che ancora oggi negano il diritto alla salute dei cittadini della Valle del Belice. Domenica 9 settembre il trenino gommato che per tutta la stagione estiva ha effettuato il servizio di trasporto turistico tra il lungomare San Vito e il lungomare di Tonnarella effettuerà l'ultima corsa di urna per la stagione estiva 2018 il servizio è stato svolto dalla ditta siberiana che ha effettuato il trasporto dei passeggeri il servizio di trasporto serale invece condizioni meteo permettendo continuerà dalle 21 alle 24. Fervono i preparativi per la quarta edizione del Festival Mare Nostrum il Festival Internazionale della Fotografia del Mediterraneo in programma Mazzara del Vallo a partire da venerdì 14 settembre alle 19 presso la Galleria d'Arte Contemporanea Santo Vassallo una grande rassegna che ospita ogni anno decine di artisti da tutto il mondo con un unico obiettivo raccontare il Mediterraneo nella sua totalità il Festival racchiude al suo interno eventi fotografici workshop, conferenze e ovviamente l'esposizione di molte opere fotografiche che saranno esposte nella Galleria d'Arte Contemporanea a Santo Vassallo e al Collegio dei Gesuiti A Vinimilo importante vetrina per la promozione e la diffusione della cultura del vino e delle aziende vinicole siciliane nella cornice dell'immenso patrimonio gastronomico della nostra terra è stato presentato e discusso Magica Sicilia il nuovo libro di Attilio Vinci col sottotitolo Eno Gastronomia e Cultura tra mare e terra Vinimilo 2018 evento ormai consolidato a Milo cittadina definita Gemma dell'Etna quest'anno giunto alla 38esima edizione nei 15 giorni di programmazione ha regalato momenti culturali e artistici con ben assortite degustazioni di cibo e vino e convegni sull'agroalimentare tutto inserito in un itinerario tra vigneti prodotti tipici vini l'Etna e alberi multicentenari e online il nuovo video della cantante castelvetranese d'adozione è serenasciuto con un brano inedito contro la mafia sentiamo e online da ieri sera il video della cantante castelvetranese d'adozione serenasciuto che ha scritto una splendida canzone scritta e interpretata da lei stessa e arrangiata dal maestro Gaspario Federico una canzone di denuncia contro la mafia il brano è un'amara e feroce critica a tutte quelle istituzioni politiche o religiose che con i loro compromessi con il loro far finta di non vedere non fanno altro che normalizzare l'illegalità creando attorno alla mafia un'intollerabile forma di consenso sono queste figure ipocrite che si alternano nel videoclip che accompagna il brano nel quale il regista Fabio Pannetto ha posto l'accento sull'importanza del gioco della campana come metafora della vita un percorso tracciato sull'asfalto con un gesso bianco inizialmente da un adulto completato poi dai bambini che rappresentano in futuro il segno di un cambiamento Serena insegnante per professione ma con la passione dell'arte ha saputo compiere un percorso di maturazione artistica non indifferente la semplice interprete si è trasformata appunto in autrice completa c'è una sola speranza canta Serena l'infinita bellezza che segna la direzione ma se impari a lottare a contare nella vita non restare a guardare gioca tu la partita ciò che più conta è lasciare un'impronta a Castelvetrano torna il grande Luna Park gettonatissimo da grandi e piccoli di via Roma aggiunto alla sua 45esima edizione ma l'area adesso adibita è deturpata a causa dell'inciviltà di alcuni cittadini sentiamo il mese di settembre per i Castelvetranesi oltre alla ripresa delle attività scolastiche o lavorative ha sempre sancito l'arrivo della Fiera della Tagliata e del Luna Park di via Roma che ha accompagnato le serate dei giovani di tutta l'età ma anche delle famiglie che trascorrevano all'interno di quest'area piacevoli serate in compagnia anche quest'anno per il 45esimo anno consecutivo e il Luna Park sarà montato a partire da lunedì nell'area antigua alla stazione di servizio Eni e nei pressi della cosiddetta isola ecologica del comune cosiddetta perché quella che dovrebbe essere un'isola ecologica è diventata nelle ultime settimane una vera e propria discarica a cielo aperto più volte segnalata e più volte anche ripulita l'inciviltà dei cittadini sicuramente non contribuisce a sistemare un'area che adesso però deve essere nuovamente ripulita per consentire l'impianto delle giostre dal comune ci assicurano che domani provvederanno a ripulire l'area e quindi diciamo entro lunedì i maestri giostrai potranno installare le loro diciamo attività e poter garantire queste piacevoli serate di svago ovviamente l'auspicio è che pur ripulendo la gente impari a non abbandonare più i rifiuti in questa maniera e che il servizio soprattutto migliori e ora passiamo allo sport dopo il positivo avvio di stagione con la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia per il Mazzara Calcio è arrivato il momento di debuttare anche nel campionato di eccellenza 2018-2019 l'esordio dei Canarini è in programma domenica 9 settembre alle 15.30 allo stadio Nino Vaccara contro il Pro Favara per la prima giornata la prima giornata di campionato sarà anche l'ultimo giorno utile per potersi abbonare a tutte le partite casalinghe della squadra giallo-blu italiani potranno essere acquistati presso la ricevitoria Fabio Giacalone in via Piersanti Mattarella Cariche e motivate per una nuova stagione alle porte anche le ragazze del calcio femminile Marsala ascoltiamone nel servizio abbiamo ricominciato da poco siamo cresciute in numero spero anche in qualità abbiamo tante novità che man mano in questi giorni verranno fuori c'è tanto entusiasmo abbiamo un bel gruppo come al solito stiamo cercando di amalgamarlo con con l'innesto delle nuove ragazze quest'anno come preventivato tre anni fa dovrebbe essere l'anno del salto di 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 categoria vorremmo cercare di fare un campionato di vertice poi tutto può succedere ovviamente noi ce la metteremo tutta ci stiamo attrezzando e ci siamo attrezzati abbastanza bene lo staff tecnico è da un pezzo che è tornato al lavoro sta cercando di ha cercato di fare una buona programmazione per per l'anno in corso campionato ancora non so effettivamente quando inizia di solito il nostro inizia con la novità che si chiama intanto eccellenza non si chiamerà più serie C spero che inizia fino a ottobre abbiamo anche la scuola calcio che ci attende dopo il 15 settembre ci sarà la data di inizio per le piccoline abbiamo avuto alcune richieste di genitori che cominciano ecco cominciano a gustare questa novità del calcio femminile anche per le loro bimbe il nostro obiettivo quest'anno è creare un polo femminile anche a Mazzara un nostro polo anche a Mazzara per il resto auguro tutte le mie ragazze un boccalupo grossissimo sono arrivata da Bocca in Barsala già ho fatto un allenamento con le compagne alcune già le conoscevo e sono felice di questa squadra che mi ha accolto benissimo non vedo l'ora di cominciare questa stagione spero che possa andare tutto al meglio e che possiamo ottenere ottimi risultati sì sono molto contenta di essere ritornata a far parte del calcio femminile Marsala in questi giorni mi sono trovata molto bene in quanto la preparazione è abbastanza efficiente per i miei livelli quest'anno penso che ci sia un ottimo gruppo dove l'unico obiettivo penso che sia vincere alcune le conoscevo altre le ho seguite l'anno scorso giocare e molte a mio parere sono nuove quindi vedo che c'è un ottimo gruppo quest'anno spero che siamo in tanti a seguirci o comunque invito tutti a venire la domenica a sostenerci perché abbiamo bisogno del vostro tifo noi dal campo ce la metteremo tutta per farvi vedere il meglio la Mindful Yoga organizza il secondo workshop Ashtanga Vinyasa e Ata Yoga l'evento si svolgerà a Mazzara del Vallo presso l'auditorium Mario Caruso domani sabato 8 settembre dalle 7.30 alle 14 e domenica 9 dalle 12 alle 19 e si avvale del patrocinio gratuito del comune di Mazzara del Vallo guideranno le sessioni di Ashtanga e Ata Yoga Michael Steinrotter di Luino Yoga e Giussi Gennaro presidente istruttore della Mindful Yoga nel corso dell'evento interverrà anche Renato Schembri presidente di Spazio Reverie responsabile di Satyag per l'introduzione alla Mindfulness impegni di caratura internazionale in vista anche per la Rendocchi Dojo Fight Club 91026 di Mazzara del Vallo il gruppo allenato dal maestro Francesco Vaccaro sarà impegnato domani a Livorno in occasione della gara internazionale di grappling Naga Italia con i fighters Samuele Pace e Andrea Di Lorenzo mentre nella settimana dal 16 al 23 settembre a Jesolo Lido sarà la volta del campionato mondiale di kickboxing all styles categoria cadetti e juniors Waco World Championship Cadets and Junior che vedrà sulle ring gli azzurrini Francesco Locascio Salvatore Margeri e Giovanni Battista dell'Arno atleti della nazionale italiana e noi con questa notizia abbiamo per oggi concluso l'appuntamento con l'informazione su Teleotto che ritornerà puntuale lunedì alle ore 14 buon weekend musica musica